Ci sono anche sirene da queste parti? Nessuno le ha mai viste, però si possono sentire. Ah, davvero? Sei bello? Non ti volevo. Voglio mangiare in camera con te. Non sei bello. Noi, non... Dici due, noi siamo s'amuse per 3 giorni, poi si si ferma. Come si ferma tutto il bordele che viene dopo. Non si ferma più, non? Ah, perché non? Alla già restare per sempre. Ah, non. In realtà, è il tempo che tui l'amore. Mi chiamato Stefano, mi chiamato che non si non si sono accettato. Come va? Perché non ti hai discutato con noi? Perché ci sono cambiato? Non ti sei spostare. Mi fermo prima di perdere. Ora non gioche. Ma io ho bisogno di te. Non posso tornare in mia vita. Grazie a tutti